La squadra ha risposto bene in termini di determinazione, voglia di vincere, anche le idee del gioco e credo che potessimo o dovessimo nel secondo tempo chiudere la partita, mi è piaciuto molto l'atteggiamento di squadra nella mentalità, anche nel finale che abbiamo sofferto un po', mi è piaciuta questa compattezza difensiva, anche con magari, eravamo anche un po' stanche, ma nonostante ciò la squadra si è compattata per portare a casa una vittoria preziosissima sul campo difficilissimo e credo che sia la squadra che è un punto del girone più insidiosa, soprattutto in casa, e una casa non perdeva da 19 partiti, 17 vittorie e due pareti, se non ho letto male, quindi avranno ancora di più la prestazione della squadra. Grazie.